Buongiorno, sono Benedetta Vignati, ho 22 anni e frequento la Magistrale in Psicologia del Benessere, Empowerment, Riabilitazione e Tecnologia Positiva presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Presso la medesima sede ho anche svolto la triennale in Scienze Tecniche Psicologiche. La mia carriera universitaria riflette la mia grande passione per questa scienza meravigliosa che è la Psicologia. Questa passione è nata dalla curiosità di voler conoscere l'essere umano. Dall'età di 15 anni ho iniziato ad affiancarmi a temi nerenti l'essere umano, svolgendo il liceo delle Scienze Umane a Pavia e alcune azioni di volontariato presso il Banco Alimentario e la Mensa dei Poveri. L'interesse verso l'essere umano si è ampliato grazie a numerosi viaggi svolti insieme alla mia famiglia, grazie a cui ho sviluppato anche una maggiore apertura mentale, soprattutto grazie a due esperienze personali di Summer School a Washington DC e Dublino. Questi viaggi mi hanno permesso di acquisire anche una buona abilità nella lingua inglese e spagnola. Il viaggio più incisivo è stato in Africa, in Camerun, per un battesimo di amici di famiglia, dove ho imparato a guardare oltre la soggettività, imparando la condivisione e l'autodeterminazione nel raggiungere i propri obiettivi. Durante la carriera universitaria ho lavorato presso il bar di paese come cameriere e bartender e anche in alcune fiere di Milano per l'azienda Planet One. L'esperienza da bartender mi ha permesso di acquisire delle buone competenze nel lavoro di gruppo, come la collaborazione, l'organizzazione di ruoli e turni e soprattutto una modalità di comunicazione efficace ottimale con il cliente. Sono una persona estroversa, sorridente, collaborativa e introspettiva. Ho praticato numerosi sport, tra cui pallavolo, nuoto, kickboxing e attualmente pratico yoga insieme a alcune pratiche meditative. Il mio ruolo professionale è di well-being specialist con una specializzazione nelle neuroscienze e nelle tecniche olistiche transpersonali. La specializzazione nelle tecniche olistiche transpersonali rifrattano la mia passione per la spiritualità e le varie culture nel mondo. Il mondo della neuroscienza connesso alla psicologia permette di indagare quelle basi neuronali sottostanti al benessere individuale e sociale per andare così a potenziarle e creare un benessere migliore. Vi ringrazio per l'attenzione.